Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi faccio un book tag nel quale sono stata taggata sia da Elena, di Elena Razioni, Elena Paoli e Vitt di Just Vitt Books vi lascio i loro canali qua giù così potete andarle a recuperare e chi meglio di me, visto che sono stata soprannominata la sancta protettrice del Grishaverse potevo non fare il Grishaverse book tag? No, non credo e quindi eccomi qua a sfracellarvi nuovamente le ovaie per qualcosa che è legato a Libardugo immaginatevi a settembre, ho già fatto la programmazione di video che voglio fare a settembre quanto vi scasserò le balle, ok? Ma comunque piccolo appunto ovviamente per chi ancora non ha avuto la possibilità di leggere ancora il Grishaverse finalmente quest'anno arriveranno in Italia, almeno la duologia di Six of Crows che voi sapete che io amo, venero, adoro, non esiste nient'altro lì fuori della regina Libardugo e a settembre uscirà Sei di Corvi a fine ottobre fine ottobre dovrebbe uscire la traduzione di Crooked Skin quindi entro l'anno avremo già la duologia e quindi bellissimo e nel 2020 arriverà anche la Grisha Trilogy meglio di così non potevamo fare, sono felicissima di queste uscite compratelo tutti, mi raccomando, leggetelo perché qua c'è chi ha rotto le balle in lungo e in largo per averli questo è un book tag che potete tranquillamente seguire anche se non avete letto Sei di Corvi o la Trilogy quindi andate tranquilli non vedevo l'ora perché il book tag è super carino, è una cosa leggera che riuscivo a girare e quindi direi di iniziare perché un po' di amore per il Grishaverse è sempre sempre il benvenuto ok? allora in questo book tag purtroppo non ci saranno domande con risposta breve ahimè mi spiace per voi ma io ho una veduta abbastanza complessa del Grishaverse quindi niente partiamo prima domanda a quale ordine dei Grisha pensi di appartenere? le mie risposte sono più di una il primo è che io penso di far parte cioè se dovessi essere un Etterialki sono molto 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 affascinata dall'idea di essere un Earthrenders perché a me l'idea di poter togliere il fiato alle persone ridurre il battito, far scoppiare il cuore ogni tanto devo dire che mi attraversa la testa perché sarebbe un buon modo per però non lo so se sono proprio adatta perché comunque la mia prestanza fisica è pari a zero dall'altro lato mi piacerebbe tantissimo essere una scholar perché mi sento molto portata nello scatenare tempeste venti e cose cioè dove c'è della catastrofe io mi ci metto molto bene mi ci vedrai molto e quindi insomma mi vedo molto 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 in questa fase mi ci vedrai molto negli scholar sarebbe adattissimo però fondamentalmente uno dei miei personaggi degli X-Men preferiti era tempesta quindi forse tutto torna e devo dire che però anche nella veste di summoner sempre come negli ordini degli scholar ma questa diciamo invocatrice di ombre cioè un po' la Darkling non mi ci vedo male ma non lo so non lo so vedremo quando farò il test per entrare nella Second Army ne parleremo 2. In quale luogo Grisha vorresti vivere? allora questa penso sia una domanda un po' infame perché diciamo che leggendo il Grishaverse se non l'avete ancora letto fatelo farete presto partiamo dal presupposto che penso che ogni territorio abbia le sue perché comunque Ravka c'è bisogno a vedere dove sei perché se no Ravka non è un bel posto Fierda non ci penso nemmeno perché c'è la neve perenne Caterdam diciamo che non è proprio neanche la città ideale anche se sicuramente la più divertente quindi probabilmente sarei a Caterdam però quindi starei a Caterdam no però fondamentalmente l'unica cosa diciamo che l'unico territorio che è un po' al di fuori di tutte le beghe politiche e i contrasti sociali è Novi Zem quindi il territorio degli Zemeni e forse andrei lì perché sono una paracula 3. Associa un libro al tuo personaggio preferito del Grishaverse e qua ragazzi purtroppo vi subirete pipponi perché parlerò di 3 personaggi il primo che è ufficialmente il mio alter ego all'interno del Grishaverse forse ho una domanda dopo quindi non lo dovrei dire vabbè comunque parlando di uno dei miei personaggi preferiti chiaramente mi riferisco a Zoya Zoya è un personaggio che secondo me ha questa rabbia repressa ha questa rabbia super motivata che la porta non so a vivere le cose in maniera davvero molto passionale molto intensa dal punto di vista personale e che capisco che sia davvero difficile per lei gestire tutto vabbè comunque insomma io la amo perché la trovo un personaggio molto vicino a me cioè mi ci rivedo molto nelle sue sensazioni nel suo modo di reagire che è completamente folle in alcuni casi però non sempre siamo razionali siamo persone razionali quindi purtroppo per lei io le suggerirei uno dei miei libri preferiti che è anche uno dei patacchi bollozzi che non riesco a togliere neanche a piangere che è la trilogia della città di K di Agatha Christophe è un libro che io amo profondamente che parla di un disagio così intenso così mistico quasi che lei amerà perché noi amiamo le persone un po' sfortunelle perché in fondo io sono convinta che quando tu subisci un certo tipo di ingiustizie quindi questo ti provoca rabbia che non sempre sai razionalizzare io ripeto ho molta stima delle persone che sono arrabbiate perché capisco e insomma quindi la Christophe ha condensato in questo libro dove ci sono ingiustizie profonde e in fondo io sono convinta che nessuno debba essere lasciato indietro in questo libro noi ne vediamo una quantità esagerata in una situazione completamente non lucida in una situazione molto strana e insomma la Christophe ha scritto uno dei miei libri preferiti penso di avere di essere rimasta inorridita penso di essere rimasta colpita di aver pianto di essere stata veramente molto coinvolta nella lettura di questo libro che è un libro stranissimo e che è innegabile la sua grandezza e l'olessi per un esame all'università lo consiglio a chiunque non abbia ancora letto la trilogia della città di K perché è bellissimo è completamente un libro folle ma è bellissimo poi mi sento quasi in dovere di consigliare all'altro mio personaggio preferito ovvero Nicolai è il bestiario di Cortázar perché è la sensazione di essere quasi dominati dalla parte animale o del fatto che ci sia questa immedesimazione fortissima tra la storia personale di Nicolai e quello che avviene qua dentro nel bestiario dove in fondo le storie degli animali ci immedesimiamo tutti in queste storie di questi animali di quello che vivono e come si introducono all'interno della narrazione impostata da Cortázar secondo me per lui sarebbe una lettura molto ideale forse non lo metterebbe proprio di ottimo umore però adoro adoro poi a me piace tanto Cortázar quindi non ci posso fare nulla e quindi niente gli suggerirei questo e invece alla mia dolce amica Inège Gaffa che io amo profondamente e voi lo sapete dedicherei Sibilla Alleramo con una donna perché innanzitutto è una delle mie scrittrici preferite questo è uno di quelle cose che ti cambiano la vita e il fatto che l'Alleramo ma anche come Sartre anche come tantissimi altri dica che il futuro è là e il futuro c'è il mio futuro esiste anche se voi non lo vedete e in fondo penso sia uno di quei romanzi che possa essere molto incoraggiante per il nuovo percorso di Inège visto che avrà tante cose da fare in futuro e non posso fare spoiler e niente lei si merita tutto si merita tutta la comprensione di questo mondo che questo libro ti fa sentire perché in questo libro c'è una così profonda proprio empatia e conoscenza dell'esperienza che in pochi altri luoghi tu puoi ritrovare e in questo è giustissimo leggere l'Alleramo è sempre giusto leggere l'Alleramo per Inège è proprio una cosa che le regalerei in fondo saremo molto amiche io e lei cioè spero cioè lo so la quarta domanda è kiss, marry, kill the duckling nicolai o mal allora kiss ok è difficile partiamo dal presupposto quello dove diamo più allora io e mal non ci sposeremo perché è un po' noioso mal per me ma io ho una grande al contrario di tutte le opinioni che dicono che mal fa cose fuori da in realtà mal compie il percorso che secondo me è più prevedibile da un soggetto come lui mentre Alina ha possibilità di evolversi ma non ce l'ha e non trovo giusto che venga additato di relazione abusiva robe di questo tipo anzi quando loro due non si capiscono Alina esprime per tutto ruin and rising frustrazione nei suoi confronti quindi io non so cosa abbiano letto quelli che parlano di relazione abusiva perché in qualche modo secondo me è spiegabile cioè non c'è un'evoluzione di mal anche perché mal spesso è l'unico che ha cioè che non è fuori di testa all'interno della trilogia quindi vabbè comunque io non me lo sposo ma al massimo gli do un bacetto e darei un bacetto anche al Darkling però il Darkling lo uccidiamo e ovviamente sposerai Nicolai perché Nicolai saremo una grande coppia ne sono convinta ci uccideremo ci fracasseremo la testa a vicenda dopo due settimane poi rifaremo pace ma poi ricomincerebbe vabbè sono quelle relazioni che piacciono a me comunque 5 con quale dei drags andresti su un'isola deserta qua io sarò pratica perché bisogna sopravvivere su un'isola deserta e l'unica in grado di sopravvivere è Inej cioè su questo non ci piove tutti gli altri creperebbero dopo mezzo secondo a portarci Jasper io non oso immaginare cosa potrebbe succedere cioè ci faremo un sacco di risate sicuramente ma poi saremo lì a piangere perché siamo avvisi qua vabbè non siamo qua per pensare beh Inej la portiamo anzi lei sarebbe utilissima e praticissima la sesta domanda chiede quale fiaba di The Language of Thorns preferisci e la mia preferita sono due in realtà c'è anche One Water Sunk Fire ma direi Ayama and the Wood perché trovo che sia una fiaba bellissima davvero molto poetica ha delle frasi meravigliose davvero tutte quotabili come d'altronde è lì Bardugo che è tutto quotabile e quindi direi quella sicuramente anzi è quella che poi mi è rimasta proprio più impressa più cioè devo dire anche The Witch in the Wood molto bello non so tutto molto bello all'interno di The Language of Thorns c'è questa decadenza in queste fiabe molto cupe molto molto oscure però che a me piace molto questo umorismo molto nero molto cinico che però mi è piaciuto veramente moltissimo sette qual è la tua citazione preferita della Bardugo la mia preferita cioè le mie preferite sono sicuramente qual è il modo migliore per uccidere una persona perché mi fa sempre ridere come tutti si lancino nel raccontare a gum to the earth a knife to the throat poison in the tea eccetera eccetera e ovviamente Mattias che dice siete tutte persone orribili mi fa sempre molto ridere la seconda frase che mi piace cioè sono un paio di frasi che vengono da Language of Thorns e sono la prima we were not made to play as princes cioè non siamo state fatte per appagare piacere ai principi e l'altra invece love speaks in flowers the truth requires thorns ovvero l'amore parla attraverso i fiori ma la verità ha bisogno delle spine perché insomma lei è bravissima tutto è quotabile della Bardugo insomma cosa volete farci e niente immagino abbiamo finito qua e niente qua siamo arrivati spero che questo book tag ovviamente entro la fine dell'anno vedrà fiorire fior e fior di persone che lo possano fare visto che avranno la possibilità di leggere finalmente il Grishaverse quantomeno la duologia di Six of Thrones e nel 2020 uscirà anche tutta la Grisha Trilogy sono felicissima non potete capire la gioia e anche lo scassamento di balle quanto può essere stato potente abbiamo fatto bene abbiamo portato un ottimo titolo in Italia ne sono molto fiera e niente io penso che possiate considerarvi tutti taggati se avete letto il Grishaverse fate questo book tag riproponetelo consideratevi taggati taggo Elena perché so che se no si offende onde evitare che il suo buon cuore si nervosisca ulteriormente considerati taggata ma anche tutti quelli che lo vogliono fare ovviamente siete liberissimi di rifarlo tanto non è un mio book tag è un tag di Elena e di Vitt quindi insomma niente giù nell'infobox trovate tutti i miei link ai social i miei link di affiliazione ad Amazon con anche tutti i libri dei quali parlo e varie ed eventuali coffee se mi volete offrire un caffè quello che volete iscrivetevi mi raccomando se non l'avete ancora fatto al canale e niente come sempre io vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me se questo video vi è piaciuto ovviamente mettete anche un pollicino in alto e niente io vi ringrazio come sempre e direi che ci vediamo al prossimo video ciao